Ti piace mangiare le barrette proteiche? Se vuoi mangiare una barretta ogni tanto va benissimo. Ti chiedo però soltanto due favori, veramente, personalmente. Il primo, ti prego, non contarla, non tracciarla. Non deve essere l'applicazione che ti dà il permesso di mangiarti una barrettina, che sono un pugno di calorie. Tu segui la tua alimentazione, varia, sana, bilanciata, che deve essere la base e on top. Ogni tanto, quando ti va una barretta, mangiatela. Il secondo favore, molto più importante, non mangiare una barretta proteica. Se vuoi una schifezza, mangia una schifezza. Cioè, questo almeno è quello che faccio io. Se mi va una schifezza, mangio una schifezza che ti dice, beh, l'ho scritto gigantesco, ciao, tolgo una schifezza, mangialo. Quindi se proprio ti va la barretta proteica in generale, ti mangi il tuo Lion, il tuo KitKat, e accanto ci fai uno shakerino di Whey, oppure lo intingi nel Whey. È esattamente la stessa cosa, ma almeno non ti prendi quel sapore chimico schifoso della barretta proteica, che veramente è osceno. Insomma, un po' di intelligenza in questo caso. Per scoprire di più di tutti questi argomenti e non essere vittima di influencer, del marketing, di quello che ti circonda, della giungla che è l'industria del fitness e del bodybuilding, allora iscriviti al Run National, l'unità dell'area più grande dedicata al bodybuilding, trovi il link nella mia video.